Con il direttore Luciano Rapa di Forza Pescara TV, allora questo Zeman, questo Pescara quest'anno? Questo Zeman già sta entusiasmando, sta piano piano trasformando Pescara in una piccola Zemanlandia che tutti quanti ci auguriamo possa diventare una grande provincia di Zemanlandia. L'augurio poi al nostro gruppo lo fai no? Un augurio speciale al gruppo Zeman che impazza su Facebook e sul web e che anche noi di ForzaPescara.tv seguiamo con affetto. Grazie, buon lavoro sempre. Altrettanto.